Torna sul gradino più alto dopo averci lasciato per 6 o 7 mila aeree Quindi direttamente dall'Australia, il neoassi Tirtino a 5 anni con un faboloso 2.43 3.43, facendo un grande applauso Il grande Pietro Gini, Francesco In da l'ansi Got your chin held high and your feet out just fine Cause you do what you told But inside your heart it is black and it's hollow and it's cold Just how deep do you believe Will you break down in my speaks Hit you until in these Can you get off of your knees Grazie a tutti 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 Grazie a tutti